Dopo un periodo di riabilitazione e riambientamento durato sette mesi, Ravigliano è tornato in libertà allo splendido esemplare di Biancone, che nella prima settimana di ottobre era stato recuperato dagli agenti faunistico-ambientali del Servizio Tutela Fauna e Flora della città metropolitana di Torino. Una volta recuperato, il rapace era stato subito visitato dai veterinari del Centro Animali Non Convenzionali della Facoltà di Veterinaria dell'Università. Trattandosi di un giovane esemplare di circa 5 mesi di età, nato probabilmente un po' in ritardo, gli esperti avevano ipotizzato che non avesse fatto in tempo ad essere pronto per la migrazione invernale verso il Nord Africa, tipica della specie. Il Biancone ha quindi passato l'inverno in un tunnel di riambientamento ad Avigliana, presso il Centro di Riabilitazione per Volatili dell'Ente di Gestione delle Aree Protette delle Alpi Cozzie. Una volta uscito dal tunnel di riambientamento, è apparso in buona forma, si è guardato intorno, ha aperto le ali e ha spiccato il volo verso un vicino albero per osservare il territorio circostante. Il Biancone è un rapace diurno di grosse dimensioni, con un'apertura alare che sfiora i due metri. La sua dieta è composta esclusivamente da serpenti e in maniera marginale da sauri, che caccia nelle ore diurne in campo aperto, nei terreni coltivati o nei prati. Il Centro opera in convenzione con la città metropolitana, finanziato dalla città metropolitana e dalla regione Piemonte. È un centro in cui gli animali vengono prima di essere rimessi in libertà, perché hanno la necessità di fare una fase di riabilitazione al volo, quindi di riprendere il tono muscolare. Poi ci sono questi lunghi tunnel da 25 metri dove loro possono fare esercizio. Quando si rigiudicano che sono pronti a ritornare in libertà, vengono inanellati, anche perché l'ente di gestione delle Alpi Cozzi che gestisce questo centro ha anche altri progetti che sono quelli di monitoraggio della vifauna attraverso progetti di inanellamento per studiare le migrazioni. Che cosa dobbiamo fare noi cittadini quando vediamo un animale come questo, come il biancone, in difficoltà, che sia un piccolo o che sia anche un adulto ferito? I comportamenti vanno diversificati. Se si tratta di un adulto, un animale selvatico, che è già capace a badare a se stesso, ma che ha avuto un trauma, una ferita, quest'animale va aiutato. Quindi dobbiamo intervenire, dobbiamo cercare di catturarlo e portarlo nei nostri centri. Se invece si tratta di un giovane, un pullo, un immaturo, la cosa migliore da fare è quella di lasciarlo dove magari solamente spostarlo in un luogo un po' più protetto, nel caso si trovi vicino ad una strada, spostarlo ai bordi, nel prato vicino, perché lì sicuramente ci sono i genitori e i genitori sono i migliori artefici della crescita di quel pullo. Il cittadino che trova un animale in difficoltà può chiamare i numeri della città metropolitana oppure, se dovesse essere di notte o di giornate festive, può arrivare sempre ai nostri uffici tramite il 118. Grazie. 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 Grazie.